Nei suoi ultimi anni di vita Carlo Magno sembra preso da un affanno crescente, come se sentisse che il tempo gli sta mancando e che non ha fatto in tempo a fare tutto. Negli interventi, nelle leggi emanate negli ultimi anni, si vede molto vistosamente questa preoccupazione del fatto che la Chiesa Franca non funziona ancora bene, che il clero non è ancora abbastanza preparato, che la gente continua a essere ignorante, superstiziosa. Ed è come se Carlo Magno disperatamente, negli ultimi anni, cercasse ancora di tamponare tutto quello che non ha potuto tamponare prima. C'è una preoccupazione crescente di sorvegliare l'ortodossia, per esempio, di evitare che si diffondano idee sbagliate, disastrose. Anche questo, peraltro, va collocato nel suo contesto. Quando noi parliamo, in ambito medievale, di lotta contro l'eresia, di repressione, è facile che ci facciamo un quadro impressionante. Al tempo di Carlo Magno le cose non andavano proprio così. Un esempio concreto. A un certo momento viene fuori che certi vescovi spagnoli hanno elaborato una nuova teoria. Una nuova teoria sulla natura di Gesù Cristo. Per cui sostengono che Gesù Cristo è sì il figlio di Dio Padre, ma è un figlio adottivo. Questa cosa oggi può sembrare, come dire, incomprensibile, ma dobbiamo pensare che all'inizio del Medioevo la gente era seriamente preoccupata perché faticava a capire il significato della figura di Cristo. Contemporaneamente Dio è uomo. Figlio, ma uguale al Padre. Ecco, su questo si discuteva moltissimo. La teoria dell'adozione era una proposta astuta per aggirare certi problemi. Carlo Magno sente parlare di questa teoria, si preoccupa, consulta i teologi, decide che questa teoria è sballata e che questi vescovi spagnoli vanno convocati e gli si deve spiegare che si sbagliano. E questo è quello che succede. Ci sono alcuni aspetti abbastanza sbalorditivi di questa vicenda. Primo, se ci pensiamo, il fatto che questi vescovi spagnoli operavano nella Spagna musulmana dove tranquillamente facevano il loro mestiere di vescovi cristiani, insegnavano, scrivevano e se vogliamo altrettanto sballorditivo è il fatto che quando vengono convocati tranquillamente possono uscire dalla Spagna islamica, andare da Carlo Magno e poi tornare in patria. Ma la cosa veramente stupefacente di questa vicenda è che è Carlo Magno in persona che si preoccupa di combattere l'eresia, di combattere gli insegnamenti sbagliati. Non è il Papa. Non esiste un qualche santo uffizio incaricato di reprimere queste forme di devianza. È il governo, è l'imperatore che lo fa. Se vogliamo il santo uffizio c'è, ma è a palazzo. È a palazzo alla presenza dell'imperatore che i vescovi sono invitati a presentarsi per spiegare le loro teorie. Dopodiché l'ultimo aspetto sorprendente della vicenda è che questi vescovi spagnoli si presentano a Carlo Magno spiegano la loro teoria di Cristo come figlio adottivo del padre gli viene detto che l'idea è sbagliata e che guai a loro se continuano a dire cose del genere dopodiché li lasciano andare e questi se ne tornano tranquillamente in Spagna dove peraltro continuano poi a predicare le stesse cose e a scrivere trattati su questo. Ecco, rispetto agli standard di repressione che l'inquisizione invece avrà nel tardo medioevo e nell'epoca moderna naturalmente qui evidentemente siamo veramente in un altro mondo. La preoccupazione di Carlo Magno di evitare che si diffondano fra i fedeli idee perniciose non ha comunque niente a che fare con quell'atteggiamento di repressione cupa, sanguinaria che invece sarà caratteristica non di quel medioevo rozzo e barbarico ma di altri momenti molto più civilizzati della storia d'Europa. Negli ultimi anni di vita di Carlo Magno la preoccupazione di educare la gente, di educare il popolo diventa un vero chiodo fisso, diventa quasi un'angoscia da parte del vecchio imperatore. Si moltiplicano le leggi per esempio contro la superstizione leggi che per noi sono preziosissime perché ci fanno capire quali erano gli atteggiamenti e le idee della gente comune. Da queste leggi noi impariamo, vabbè, certe cose sembrano abbastanza innocue si apriva il Vangelo a caso per indovinare il futuro, per ricavare un auspicio ma questo è un uso improprio e Carlo Magno lo proibisce. Si leggeva il futuro nello sterco dei buoi o dei cavalli si battezzavano le campane, per scongiurare la grandine si appendevano ai pali delle carte con degli incantesimi. Ecco, di tutte queste cose Carlo Magno si spaventa e con insistenza non con ferocia perché non si parla di processi e condanne è piuttosto un atteggiamento pedagogico, quello del vecchio imperatore come se appunto sentisse che in quel poco tempo che gli rimane deve ancora cercare di fare questo. Naturalmente poi è soprattutto il clero che dovrebbe guidare il resto del popolo a essere preso di mira. Ci sono interventi di Carlo Magno nei confronti del clero radunato in assemblea feroci per il sarcasmo con cui appunto il vecchio si rivolge ai suoi vescovi e dice ma voi credete di stare facendo il vostro lavoro? Credete che sia davvero dare il buon esempio e il modo in cui vivete? Spiegateci un po'. Sappiamo di assemblee che sono convocate con all'ordine del giorno proprio questo tipo di problemi. Abbiamo a volte gli appunti dettati da Carlo Magno per queste assemblee. Ai vescovi bisogna chiedere. È possibile che uno che è diventato prete continui a arricchirsi o non dovrebbe essere povero per dare il buon esempio? Che ce lo dicano. Gli storici sono rimasti abbastanza colpiti da questo atteggiamento insistente di Carlo Magno vecchio e in genere lo hanno giudicato anche abbastanza negativamente perché in fondo è come se in qualche modo rincorresse un'utopia all'imperatore. È come se andasse dietro a un suo sogno che non aveva niente di concretamente realizzabile. Si è detto in fondo il vecchio si era rammollito evidentemente anziché pensare ai problemi concreti del governo inseguiva questo ideale di purezza, di perfezione che la realtà intorno a lui smentiva continuamente. Ed è vero che nelle ultime leggi di Carlo Magno c'è questo tono per cui non sono solo provvedimenti concreti ma sono proprio esortazioni morali. È un programma di vita quello che lui ossessivamente vorrebbe proporre alla gente. Ci vuole la concordia, i cristiani devono vivere in pace fra loro, ci vuole la carità. Ecco, utopia. Molto probabilmente sì, utopia. Tutto quello che sappiamo sulla vita concreta di questa gente ci dice che non era fatta per realizzare un programma cristiano di questo tipo. E però al tempo stesso io credo che prima di parlare della debolezza e del rammollimento del vecchio imperatore dobbiamo anche pensare al senso profondo che lui aveva sempre avuto della sua missione. E che adesso che non era più solo il re ma era l'imperatore cristiano si era ancora accentuato. Carlo Magno è un uomo che ha una missione e che sente che questa missione gli è stata confidata da Dio. E in qualche modo è come se dicesse bene, io regno su tutti i cristiani d'Occidente, li ho pacificati, ho sconfitto tutti i nostri nemici, dappertutto i pagani chinano il capo davanti alla mia spada, dappertutto si diffonde la fede cristiana. E allora, quando è allora che si dovrebbe provare a realizzare sul serio il cristianesimo? È come se Carlo Magno negli ultimissimi anni dicesse in fondo se non ora, quando? Il tempo di Carlo Magno stava finendo davvero. Negli ultimissimi anni si moltiplicano i presagi della sua morte o perlomeno gli avvenimenti in fausti che i contemporanei interpretano come presagi. Questa era un'antica tradizione, non è una superstizione medievale. Anche nel mondo romano la morte di ogni imperatore era regolarmente preceduta da questi segnali, da questi segnali soprannaturali che i cronisti registrano accuratamente. Anche in questo Carlo Magno dunque è un imperatore romano. I presagi sono tanti e i contemporanei si inquietano. Naturalmente è facile interpretare come presagio anche un avvenimento del tutto naturale, per esempio brucia il grande ponte sul Reno a Magonza che Carlo Magno aveva fatto costruire. C'erano voluti dieci anni per costruirlo ed era di legno. Un'altra indicazione di nuovo dell'estrema povertà tecnica di quest'epoca. in cui questo ponte di legno che poi brucia in poche ore può essere presentato come una delle grandi realizzazioni dell'imperatore. Più sinistri sono altri segnali. Scosse di terremoto che fanno tremare il palazzo di Aquisgrana. Rumori sinistri che provengono dai soffitti delle stanze in cui si trova l'imperatore. Certo, noi possiamo pensare che probabilmente il palazzo fosse costruito con materiali scadenti e però appunto il senso inquietante di questi segnali per i contemporanei era evidente. Poi ci sono episodi che invece sono sicuramente di cattivo augurio su questo non c'è discussione. In particolare durante l'ultima campagna militare di Carlo Magno nell'810 contro i danesi. Bisogna pensare che Carlo Magno che a quel punto andava per i 70 anni da diversi anni non combatteva più di persone. Da diversi anni non si muoveva più da Aquisgrana mandava i suoi figli e i suoi generali a combattere le sue campagne. Ebbene a un certo momento la situazione sul confine danese si deteriora a tal punto che Carlo Magno per l'ultima volta in vita sua decide di partire personalmente di andare a condurre i suoi uomini ancora una volta in una campagna militare. Una campagna che come al solito viene accuratamente pianificata e che in effetti non ha nemmeno bisogno di andare fino in fondo perché appena cominciano le operazioni militari sapendo che di fronte a loro c'è l'imperatore in persona i danesi si sbandano si ribellano al loro stesso re chiedono immediatamente la pace. Quindi l'ultima campagna militare di Carlo Magno non conosce grandi episodi militari in senso stretto è certamente un successo dal punto di vista politico ma i contemporanei sono più colpiti dai cattivi presagi che anche in questo momento si addensano. Durante la spedizione Carlo Magno è a cavallo in mezzo ai suoi uomini a un certo punto appare in cielo una torcia fiammeggiante il cavallo si spaventa in ciampa cade e Carlo Magno cade con lui. Di nuovo è un vecchio a quasi 70 anni niente di innaturale ma i contemporanei non ragionano come noi. Durante la stessa campagna succede un'altra cosa che oltre a dispiacere a tutti è interpretato come un presagio. Muore all'improvviso l'elefante Abu Abbas il regalo del califo di Baghdad che da dieci anni Carlo Magno si portava sempre dietro. e anche in questo caso la morte improvvisa di questo elefante in cui si concentravano così tante connotazioni simboliche questa bestia straordinaria mai vista il regalo del favoloso oriente il regalo del califo un simbolo in qualche modo dell'eccezionalità di Carlo Magno ecco la morte dell'elefante evidentemente anche quella non è fatta per fare un'impressione favorevole alla gente. L'ultimo atto politico di Carlo Magno pochi mesi prima della sua morte nell'813 e di associarsi nell'impero il figlio Ludovico l'ultimo figlio che gli è rimasto perché gli altri maschi legittimi sono morti tutti negli ultimi anni Ludovico che sarà poi Ludovico il Pio viene ufficialmente incoronato imperatore insieme al padre anche questa un'usanza che era già degli antichi imperatori romani che serve a garantire una successione indiscussa non contrastata ecco lo saremmo tentati di pensare visto che Carlo muore pochi mesi dopo che in qualche modo con l'incoronazione del figlio Carlo Magno abbia sentito che la sua opera era conclusa e si sia lasciato morire peraltro questa interpretazione romantica è contraddetta dalle fonti perché risulta che immediatamente dopo aver incoronato Ludovico Carlo Magno lo rispedì verso il confine dei Pirenei dove doveva governare quella zona e se ne andò a caccia nella foresta delle Ardenne come faceva tutti gli anni era l'autunno l'autunno dell'ottocentotredici la stagione ideale per la caccia e Carlo Magno che ricordiamocelo era anche un grande amante della selvaggina alla sua stagione di caccia non era disposto a rinunciare ma a caccia prese freddo e dovette tornare a acquisgrana e mettersi a letto si tenne a digiuno pensando che così la febbre se ne sarebbe andata dicono i cronisti che già altre volte era stato malato e siccome i medici li sopportava poco volevano metterlo a dieta preferiva fare di testa sua qualche giorno di digiuno integrale e poi di nuovo in piedi ricominciare a mangiare arrosti e spiedini e però questa volta non andò come era andata tutte le altre volte era a letto gli viene un dolore al fianco certamente una polmonite e alla fine il fisico non regge morì il 28 gennaio 814 alle 9 del mattino dopo aver chiamato il prete e ricevuto l'eucaristia il corpo rimase lì e non si sapeva bene che cosa farne perché non c'erano disposizioni su come seppellirlo a occuparsene furono le donne Carlo Magno negli ultimi anni si era sempre circondato delle sue figlie e delle sue nipotine aveva fatto venire accorte anche le bambine dei suoi figli morti era sempre circondato di donne e di giorni giovani furono loro a occuparsene non c'erano istruzioni il nuovo imperatore Ludovico il Pio era lontano ci vollero settimane perché gli arrivasse la notizia e altre settimane perché a sprombattuto arrivasse anche lui ad acquisgrana nel frattempo Carlo Magno era stato già sepolto e anche molto in fretta all'epoca si usava a fare le sepolture subito le donne le figlie le nipotine lavarono il corpo e poi venne deciso che anche se non c'erano disposizioni in proposito lo si sarebbe seppellito nella cappella palatina di acquisgrana quella che ancora oggi esiste in gran parte immutata rispetto all'epoca perciò si aprì il pavimento della cappella palatina il corpo venne lavato e preparato secondo le usanze e venne sepolto lì in un sarcofago di marmo antico che Carlo Magno aveva fatto venire da Roma già da molto tempo nella previsione di usarlo per la sua sepoltura e poi con il tempo sulla tomba venne apposta un'iscrizione latina con l'avviso che lì giaceva il corpo di Carlo grande e ortodosso imperatore e così Carlo Magno era morto dopo aver regnato per 46 anni ma il personaggio Carlo Magno non era morto anzi cominciava in quel momento una nuova vita attraverso la storia e attraverso la leggenda attraverso la propaganda attraverso l'ideologia politica